Exhibo SPA, distributore in Italia di molti marchi, tra cui TEAC, lancia i nuovissimi WAP wireless audio player. Sono dispositivi audio di ottima qualità che permettono di ascoltare diverse sorgenti musicali in ambito casalingo. Possono essere collegati direttamente a fonti quali stereo di casa e accettano in ingresso radio internet, server audio, chiavetta USB, schede SD, high capacity e altre fonti in ingresso come lettore MP3. Tramite la connessione wireless e ethernet possiamo ascoltare tutta la musica proveniente dal PC che funziona da audio server o da internet con tutte le radio web mondiali. Possiamo collegarci su internet a server gratuiti o a pagamento e quindi i WAP diventano il cuore di tutto l'intrattenimento domestico. Possiamo creare delle playlist personalizzate e raggruppare le nostre web radio preferite in una lista richiamabile facilmente da un comodo telecomando. Il WAP R8009 di Teac nasce in configurazione all-in-one essendo provvisto di speaker che garantiscono una potenza di uscita pari a 15W RMS. E' facilmente trasportabile grazie all'utilizzo di una comoda maniglia e ha un'estetica molto ricercata. Può essere collocato in casa in orizzontale oppure in verticale, lo schermo ruota automaticamente. Il kit WAP 4005 di Teac è formato da un telecomando e un ricevitore. Il ricevitore va posizionato di fianco all'impianto stereo di casa e collegato. Si connette al router di casa tramite wireless o presa rete Ethernet. È possibile posizionare nei differenti ambienti di casa N ricevitori per creare il multiroom. Con il telecomando posso postarmi nei vari ambienti di casa e selezionare la traccia musicale che voglio tramite un comodo display a colori. Al ricevitore possiamo collegare dispositivi esterni quali hard disk o chiavette USB con contenuti audio. Naturalmente la qualità audio è garantita dal nome Teac che è presente da più di 30 anni sul mercato italiano.